amici del grande calcio qui è biazzacu e qui è tazuna o tazuna abemus tazuna abemus allenatore mi aspettavo così presto abbiamo deciso prima la pigliava di due settimanelle che dici ma poi secondo te è fatto apposta il timing proprio durante la partita di l'Italia noi stavamo guardando la partita dell'Italia all'improvviso ufficiale mi fa ridere perché secondo me stava sul divano stava provando a guardare la partita poi mentre tra una cosa e l'altra mentre Jacqueline ci stia facendo un caffè mentre si annoiava a guardare la partita con la mano sulla panza ma sai che c'è di nuovo ma io mi faccio proprio il tweet ufficiale e l'ha fatto e l'ha fatto e tutti quanti invece di guardare la partita sono usciti pazzi sui social e sulle testate giornalistiche con questo fatto ufficiale Rudy Garcia oppure Garcia è il nuovo allenatore del Napoli vai a te la parola allora io in primis voglio dire una cosa bella nei suoi confronti perché De Laurentiis ha detto che lui ha preso questa decisione dopo averci passato dieci giorni mi sono scammolto leggendo la cosa come riuscire dieci giorni di frequentazione ma anche se sono usciti è sempre una fase di petting per De Laurentiis quindi già passare dieci giorni insieme al presidente riuscire ad avere la pazienza è un qualcosa certo uno potrebbe dirmi ti da dieci e ti dia cinque milioni all'anno puri tenga pazienza puri cinque anni non ti preoccupare ma perché cinque milioni l'hanno detto credo che sia su quella falsa riga no niente di meno eh quello quando prendi in Arabia prendi eh troppi soldi penso che non è proprio io lo seguo dai tempi di Elione da quando lui fece quell'exploat con il Lione che arrivò in semifinale di Champions battuto dal Bayern che poi avrebbe pure vinto la Champions anche se quella comunque era una Champions particolare lo ricorderete perché era durante il Covid quindi non c'era l'andata e il ritorno ma c'era la partita secca però comunque perché comunque poi è una cosa assurda perché poi è andata all'Alnastro ma con tutto bene io posso seguire Cristiano Ronaldo io seguo CR7 ma non a Rudy Garcia io quando ho visto qualche partita dell'Alnastro chi la caga a Garcia e tutti gli altri giocatori ma io penso l'avevo pure perso di vista che lui fosse andato all'Arabia io credevo che lui semplicemente non avesse trovato altre squadre perché poi lui fallì l'obiettivo stagionale dell'Ione dell'anno dopo quello di arrivare in Champions arrivò quarto e in Francia ci sono solo i primi tre posti in cui si va in Champions lo dico per chi ci ascolta però una cosa possiamo rassicurare i tifosi del Napoli che tanto avevano paura a differenza di Galtier per esempio questo gioca solo con la divisa a quattro ma che sia 4-3 o 4-2-3-1 gioca solo con la divisa a quattro quindi non vi preoccupate non l'avete proprio la divisa a quattro spero che siate contenti nessuno l'ha presa bene apparentemente non vedo gente felice io praticamente non credo che sia troppo lontano dal profilo che cerchiamo è sicuramente un pochino più integralista rispetto a quello che potevamo esserci abituati perché comunque è un allenatore piuttosto conservatore gli piace fare Tiki Taka perché comunque quella è l'impronta degli allenatori di oggi però comunque è un Tiki Taka molto più conservatore in cui conta molto di più la verticalizzazione che il possesso in fase di non possesso è proprio agli antipodi di quello che invece abbiamo visto ultimamente perché lui pur ricercando il pressing alto mette le squadre proprio a difendere a zona a distruire le linee di passaggio tanto che io molto spesso ho sentito che lui viene criticato dai tifosi delle sue squadre ma anche spesso dagli analisti perché le sue squadre sono poco intense nel pressing perché tendono ad aggredire poco per tenere ostruite le linee di passaggio quindi sai è un atteggiamento un po' approssimativo un po' scolastico che certo gli ha funzionato una cosa che sicuramente posso dire di bene di lui è che ipoteticamente non dovrebbe avere problemi a integrarsi per un semplice motivo perché il calcio che fa lui è molto identitario e semplice e quindi lui ha sempre funzionato benissimo come allenatore che subentra a stagione in corso perché i giocatori ci mettono poco ad assimilare i suoi concetti di gioco i suoi costrutti tanto che per l'appunto quella stagione del Lione di cui parlavo prima è una stagione in cui lui è lui arriva ad ottobre e poi continuò fino alla fine della stagione e arrivò in semifinale di Champions quindi fece bene e poi comunque è un titolato questo diciamolo per correttezza è un titolato è un allenatore che ha vinto un campionato con il Lille ha vinto una coppa di Liga francese con il Lille e ha vinto per tre volte il titolo di allenatore dell'anno della Ligue 1 per tre anni consecutivi quindi non parliamo di uno sproveduto ecco parliamo di un uomo di calcio assolutamente un allenatore vero non parliamo di gattuso però diciamo che le perplessità ci stanno tutte perché non è un allenatore che soprattutto negli ultimi anni ha fatto parlare di sé io vedo più vedo leggo questo nome Rudi Garcia e tutta la carriera di Rudi Garcia e più mi viene in mente Luciano Spalletti Luciano Spalletti è arrivato a Napoli così dopo che si era fatto due anni di campagna che tutti quanti io già sto leggendo Rudi Garcia non è abituato si deve riabituare al calcio europeo e va bene questa è la solita cantilena che sentiamo tutte le volte noi abbiamo abbiamo preso Spalletti che stava con la capretta con Ciuchi la Sinellino e la paperina Biancaneve e nessuno l'ha notato questo fatto che cioè mica si è sentito è perché è stato due anni mi si è fermo si vede che si è un po' arrugginito quindi questa cosa già la togliere di mezzo sta accendo di ma lui ha allenato l'Al Nasr l'anno scorso questo già lo possiamo togliere di mezzo e poi è quella tipologia ormai secondo me De Laurentiis vuole vuole andare proprio a ricercare quegli allenatori che hanno avuto un passato in dei club importanti ma che non sono ancora diventati dei top perché magari hanno vinto come aveva fatto Spalletti con lo Zenit il campionato russo e Mo Garcia ha vinto questo campionato con con Lille quindi campione di Francia con la Roma ha avuto quelle parentesi di secondo posto e quindi non è diventato ancora l'allenatore top come lo era Spalletti Spalletti non era allenatore top lo è diventato Mo perché ha vinto il campionato con il Napoli adesso tutti quanti parlano di Spalletti come uno dei migliori allenatori al mondo ma io mi ricordo perfettamente e magari se c'è qualcuno che ha la mia stessa memoria che mi sta ascoltando che ma forse uno su dieci era contento di ricevere Spalletti al Napoli al primo anno in tutta in tutta la piazza anzi io compreso io che sono sempre stato grandissimo fan di Totti io a Spalletti mi stava proprio sulle balls perché non lo sopportavo a pelle non mi piaceva e questo non c'entra niente con la questione tattica e la bravura di un allenatore quindi io tutti questi questi primi pensieri che stanno girando su Ludicarsia io li capisco perché pure io mi aspettavo sinceramente un nome un po' più altisonante però non mi sto fasciando la testa già da adesso come pare molti già sanno la società che merita un po' di fiducia o altrimenti torniamo all'anno scorso di già no no già siamo tornati all'anno scorso perché io vedo gente che già si sta per lanciare dalla finestra perché se ne vede tutti quanti che se ne stanno andando abbiamo cambiato ma io non oso immaginare tra stasera e domani mattina cosa riusciranno a dire sul fatto che abbiamo preso Ludicarsia se vuoi saperlo Ciro Venerato è già partito all'attacco assendo che l'abbiamo preso soltanto perché a De Laurenti si è rimasto infastidito dal tempo che si è preso Galtier per decidere è un fenomeno quell'uomo comunque ormai ci piacciono gli allenatori della Roma questo è assodato infatti io mi già mi preparerei a Murigno tra qualche anno Murigno ma se farebbe Sizzema non la vogliamo è certo e questo mi fa piacere per gli amici giallorossi che ormai siamo compagni di allenatori abbiamo avuto sempre avremo sempre di più gli allenatori in comune però ecco sinceramente una cosa che mi dispiace è vedere le reazioni scomposte perché io sono dalla parte di tutti quelli che dicono che si poteva fare di meglio nel senso si poteva prendere qualcun altro che magari fosse più attuale del mondo del calcio perché si può dire tranquillamente che Garcia fosse uscito dall'elite del calcio che conta non sarebbe stato un eresia però ripeto quello che ho detto prima perché voglio essere chiaro su questo punto noi non stiamo parlando di uno sprovveduto ragazzi stiamo parlando di uno che fa questo mestiere alla gattuso cioè ha fatto il calciatore e ora vuole fare l'allenatore questo è un allenatore vero uomo di calcio che allena da tanti anni lo ha fatto anche ad alti livelli e lo fa anche bene poi una differenza fondamentale con Spalletti è sicuramente che Spalletti sin quando poi non è arrivato a Napoli ha sempre rispettato gli obiettivi nel senso lo chiamavano per fare cose per arrivare in Champions si è arrivato in Champions ok l'unica cosa che poi non facevano è che non lo confermavano quindi è successo con la Roma è successo con l'Inter una volta mi hai fatto tornare in Champions te ne vai e magari mi prendo un altro allenatore per tentare di vincere Garcia ha fallito questo obiettivo con il Lione per esempio l'ha fallito però con la Roma l'ha centrato con la Roma l'ha centrato anche se lui il primo anno della Roma il secondo scusa voleva vincere lo scudetto lo disse pure nel senso in conferenza uno dei momenti peraltro più simpatici della sera delle conferenze italiane e l'unica cosa ripeto è questa la differenza fra i due allenatori poi Biazzaco ha detto bene comunque non è che qui debba arrivare il super titolato perché non c'entra niente l'importante è che la squadra sia forte poi a noi non serve uno scienziato o un incredibile allenatore scusatemi se rubo una frase dal libro di Ancelotti un allenatore che salga sugli alberi noi serve un allenatore che sia capace che sia bravo che sappia leggere le partite che sappia mettere la squadra in campo poi tutto quello che dà in più ottimo e forse Garzia non è quello che ti dà quel qualcosa in più forse perché non lo sappiamo cerchiamo di fidarci un po' di una società che ha dimostrato di saper vedere con lungimiranza però ecco ripeto non è uno sprovveduto cioè è un uomo di calcio questo è da è da dire comunque Garzia come poi ha fatto a Spalletti trova una squadra quadrata quindi non deve fare altro che continuare il percorso già già deciso quindi non credo che farà dei cambiamenti così tanto incredibili come tutti gli allenatori sarebbero che cioè pur se fosse venuto cloppo non credo che avrebbe cambiato chissà quanto perché giustamente funziona la squadra finché non trovi delle cose da aggiustare allora poi vai a metterci mano ma se già una cosa funziona sicuramente non la cambi più di tanto sì e poi ragazzi vorrei ricordare che in tutta la storia della calcio Napoli di Targato dell'Aurentis quanti allenatori ha ufficializzato nella piazza tutti quanti noi siamo stati contenti il primo giorno gli penso solo Benitez e Ancelotti tutti gli altri l'abbiamo sempre schifato sempre da Sarri a Mazzarri a Spalletti Gattuso cioè tutti tutti qua non siamo mai rimasti soddisfatti da questo tweet ufficiale puntini puntini e non allenatori del Napoli mai mai visto una reazione di persone felici e contenti diciamo andiamo a vincere la Champions League adesso mi auguro piuttosto che cominci il mercato anche per noi anche perché ricordiamoci sempre che c'è un giapponese in ballo sarà ora che dici c'è un giapponese in ballo che dobbiamo capire chi cazzo è io non so magari qualche qualche conoscenza del nuovo mister vabbè comunque benvenuto a Rudy Garcia assolutamente io sono curioso come al solito e poi verrà giudicato però ricordatevi sempre che è sempre il campo a parlare non i giornali il campo parla e poi uno giudica bene ragazzi questo video finisce qui lasciate un like se il video è piaciuto iscrivetevi attivate la campanella e noi ci vediamo in un prossimo video forza Napoli sempre a presto a presto è